ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per appunto ritornare nel tema horror come sempre no purtroppo c'è stato un periodo appunto circa due settimane che non ho più fatto horror ho fatto più mistero che horror però dobbiamo qualche volta ritornare nel tema horror perché sennò povere horror cioè ci resta male eh poverino allora prima di cominciare volevo dirvi una cosa come avete visto in questi domenica io non faccio video per un semplice motivo perché purtroppo adesso purtroppo non vi posso spiegare nel preciso cosa succede in casa mia perché sono cose mie personali però non avendo praticamente la persona che tiene i miei nonni purtroppo lei poi va via e quindi la casa rimane tutto ai miei genitori e quindi io non posso fare video raramente capiterà che farò video se farò video è perché magari l'ho registrato o la sera oppure magari ho avuto un pochettino di tempo nel pomeriggio oppure l'ho registrato ieri cioè sabato se dovesse succedere una cosa dicendo ma massimo pubblicherò massimo un video perché la domenica è veramente impossibile e poi forse il lunedì ecco sarà magari quello che cioè diciamo metterò più video allora proprio per quanto riguarda le animazioni ci sono state delle ragazze che mi hanno detto che eh l'ho prese da qualche parte no le animazioni che faccio io sono fatte da me eh sono io che ci perdo ore e ore per farle per trovare la musica giusta per trovare le mosse giuste per sincronizzare le varie cose sono sempre io a farle non sono fatte da nessun altro non so c'è la copyright perché c'è la musica però non sono prese da nessun canale io ho preso solo un'animazione porca vacca un'animazione dal canale di alcuni di alcuni youtuber ma perché appunto non sapevo ancora fare queste cose ad esempio tipo la voce di mangle che troverete sotto che troverete nel mio canale le voce di mangle si l'animazione l'ho prese da magari youtuber americani ma cioè non è che poi non è tanto violazione privacy perché alla fine sapete quante persone prendono l'animazione di sicuro adesso qualcuno prenderà anche le mie animazioni perché sai come ci sono io ho veramente ho trovato tantissimi canali tipo di quattro cinque quattro cinque canali che si prendono le animazioni magari di quelli che hanno tipo mille cinquecenti iscritti se li mettono nel loro video oscurano il il canale oscurano il canale sapete che si può mettere il bollino sotto al canale quella cosa qua io non ho ancora capita come si mette cioè vabbè chiederò di sicuro qualcuno e niente allora adesso non perdiamoci in chiacchiere volevo solo dirvi questo quindi per piacere le persone che dicano che sono sono state copiate no mie care no ore e ore passate a stare sotto i libri sotto guide a capire come animare le cose quindi non è tutto e se per caso dovessero uscire tanti video di animazione perché durano cinque minuti c'è alla fine però avevo visto che vi sono piaciute meglio 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 allora andiamo avanti andiamo avanti dai allora siamo qui per oggi per fare le 13 case infestate in italia bene sì alla fine ho trovato le 13 case infestate che possono essere case palazzi chiese a parte il fatto che le chiese è impossibile perché comunque le chiese in un certo senso con gli spiriti non vanno molto d'accordo e mi raccomando arrivati a 700 iscritti quindi per chi si vuole affrettare a iscrivervi si può iscrivere a 700 iscritti farò uno speciale ma questa volta mi farò vedere perché ho deciso di fare una cosa che spero che voi apprezzate non avete paura mi raccomando purtroppo adesso non spoilerò niente perché non sono neanche sicura però a 600 iscritti praticamente farò uno speciale e in questo caso racconterò la mia esperienza col paranormale perché purtroppo anche l'ho avuta ecco perché il canale è centrato tanto sul paranormale perché io l'ho vissuta in prima persona ma per quello state tranquilli che sarà un'altra cosa non avete paura perché non mi è successo niente sono viva vegeta sono tranquilla sono a casa mia non è infestata la mia casa tranquillamente allora ok allora la prima casa è il fantasma del palazzo vecchio mamma mia che ansia proprio ansietta potente nelle suntose stanze del palazzo fiorentino a Firenze ah io guarda volevo andarci a Firenze adesso non ci vado più allora si aggira uno spettro illustre che schifo illustre sì ma mi devono sempre tra i capelli e nella bocca quindi non riesco a parlare Baldo di Piero Bruni Baldo Baldi ecco il maestro Baldi ecco da dove proviene il maestro Baldi è un fantasma Baldi oh mio dio Piero Bruni è proprio un bellissimo cognome Bruni magari era calvo non aveva i capelli meglio noto come Baldaccio d'inghiari cioè vabbè lasciamo stare nato intorno a 1400 nell'ononima città arentina vabbè vittima di una congiura e fantasma di Baldaccio continua a girarsi nelle stanze del palazzo vecchio ragazzi se siete indifferenze mi raccomando scappate appena vedete sto palazzo non entratici perché può darsi che le vostre bellissime le vostre bellissime cappelle i vostri bellissimi vestiti possono essere usurpati dal fantasma no veramente può darsi eh guarda che ci sono alcuni fantasmi che sono veramente cattivi eh ve lo dico in attesa che sia fatta giustizia aspetta c'è la sensazione ok in attesa che sia fatta giustizia la sua innocenza venga finalmente provata è innocente basta che te ne vai è lì ad aspettare quindi ti immagini davanti tipo nel comune tipo è lì così dimmi le tue congiure palazzo vecchio si trova in piazza della signoria Firenze alla sede del comune della città guarda io non voglio entrarci povero povero sindaco ad avere un fantasma in la torre del diavolo la torre del castello dei conti giudi di poppi giudi vabbè poppi poppi va bene che nome nella provincia di Arezzo nasconderebbe il fantasma di Matelda Matelda Matilda quella di Harry Potter no com'è che si chiamava quella che piangeva Matilda vissuta nel lontano 1200 guarda non entrateci mai in queste torri né a Firenze né a Arezzo né sto cavolo la leggenda vuole che la donna uccidesse i propri amanti dopo una notte d'amore cioè ma proprio peggio dell'amantide religiosa che la femmina ammazza il pretendente cioè per questo venne murata viva nella torre del maniero murata viva madonna cioè altro che qua maschilismo potente a parte che li ha uccisi però una pulizione che non impedì di ritornare sotto forma di spettro quindi è nelle mura quindi se ho qualcosa tipo sapete le mura di Harry Potter no che si muovono no se si muove qualcosa all'interno delle mura è lei la casa più infestata d'Italia io non ci andrei molti la conosco come la casa rossa io potrei dire la casa dark perché cioè va bene per via del colore vermiglio con tempo ricopriva l'intera facciata guarda salve l'ansietta mi sta venendo però io sinceramente non entrerai in questa casa neanche se mi pagano proprio corro chiamo tutti i cari armati per uccidere stu tizia costruito nel corso del 1800 a Bindo frazione di corte nuova lombardia vabbè chi se ne frega per il conte felice dei vecchi felice dei vecchi era felice perché era vecchio va bene la villa si trova oggi in uno stato di completo abbandono eh ci credo guarda ci credo eh ci proprio però ci vorrei entra basta combice l'aspetto decadente la struttura si è condannata la fama di villa e delle streghe ah perché vengono le streghe a fare le sue predicazioni che schifo numerose le storie che circondano intorno all'edificio tra cui spiegabili fatti di sangue in cui tanti episodi legati al satanismo ah bello bellissimo potente l'aspetto di azzurrina ancora qui ah azzurrina è vero lo splendido maniere editoriano in provincia di Rimini attenzione che a Rimini c'è azzurrina è la sede di uno dei fantasmi più famosi della penisola la storia di azzurrina si tramanda che guendalina ho proprio un nome di merda più di merda di tutti soprannominata azzurrina perché azzurrina era azzurra in quanto affetta da albinimismo ah è vero perché lei era tipo albina era tipo come la stessa si era tipo di un rosa ma pallido quasi giallo è una cinesa fosse la figlia di un certo ugo luccio o guccione vabbè bellissimi nomi di merda feodataro di montebello nel 1375 il genitore diceva di tagliare i capelli per nascondere la sua diversità poveretta è pelata la figlia del maestro baldi il risultato però fu quello di una chioma di colore azzurro che figo da qui si rivolò l'ormai celebre soprannomi azzurrina appunto ah perché avevi capelli azzurri così si tinta i capelli si narra che allo scadere del sottiscio estivo di ogni lustro un solo proveniente da sotterraneo cunicolo si faccia ancora sentire il pianto di una bambina è lei è lei che vuole ritornare nel mondo dei vivi scettici le registrazioni che potete ascoltare a castello fungeranno ogni dubbio una delle stanze del castello di montebello in provincia di Rimini il ritratto di azzurrina guardate io non entrarei mai in questo castello neanche se mi pagassero neanche a sentire il suo grida il castello della paura si dice che c'era il castello della rotta torino sia stato costruito in posizione particolare pervertiti in grado di catalizzare inquietanti fenomeni paranormali bello una specie di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti allora madonna cos'è la macchina del tempo che spiegherai i binumerosi avvistamenti estra sensoria cos'è siete cos'è vampiro vampirismo molti parlano dello sperto di un cavaliere cos'è cavaliere senza macchina senza paura altri ancora di quali di un monaco visitare per credere io non visiterei mai la casa delle anime di voltri voltri che cazzo cos'è tutti a genova conosco la famigerata storia di un'antica locanda dismessa eh si potrei anche credere perché è stata dismessa nel medio nel medioevo la cade anime ma è bergamasco sembra era uno dei pochi balberghi presenti nella vecchia strada del giovo che nomi di merda proprio arteria arteria che dalla riguria provvediva verso la lombardia e piemonte vabbè chi se ne frega non doveva studiare geografia qua ma studiare perché ci sono sti tizi sembra che però che i gestori fossero dei afferati criminali e non dei criminali ok invece di dire afferati come cos'è si racconta che deve essere costruito delle stanze con dei soffitti mobili e che male c'è che nella notte ah ok che nella notte viene fatta cadere dall'ignaro ospite per poi derubarlo che bello cioè facciamo lì la gente e poi derubiamola già e che ci siamo numerosi dispettri che da secoli infesterebbero l'antica locanda guarda io non ci andrei mai alcuni raccontano del fantasma di una giovane donna che ancora oggi se ne va in cerca dell'amato ucciso proprio in quelle stanze eh ma sapete che sono tutte sfrottole sfrottoline il fantasma del chiostro nel monasera di santa che nomi di merda che hanno mamma mia santa radegonda che cazzo di nome è a milano ah anche a milano c'è madonna guarda vado subito a visitarlo guarda a milano oggi oggi quasi completamente demolito si è il giro spettro di una ragazza guarda facciamo subito conoscenza io lei forever per sempre leggenda vuole che si tratti la famiglia di bernabò visconti ah ho capito sì rinchiusa nel chiostro e barbaramente uccisa dal padre per adulterio ma che pezzo di merda che è il suo padre scusami eh il suo fantasma vaga ancora oggi in quale rimane nell'antico monastero urlando contro il padre Aguzzino in cerca di una pace che forse non troverà mai madonna santa la legge la casa maledetta di venezia oh mio dio tutte così che bella casa guarda ci entrai subito una leggenda nera che arriva fino ai giorni nostri si racconta infatti che sul palazzo di cadario di venezia vabbè quella cosa lì ha legge una terribile maledizione il motivo molte delle persone che hanno abitato questo edificio del 400 sono decedute per morti violenta senza un motivo secondo me c'era un tizio che ammazzava le gente tipo gel de killer stile la facciata di cadetaro sul canale grande di venezia ah questa qua madonna santa che inquietante non è bella ma inquietante la prima fu marietta figlia del proprietario Giovanni Dario morto suicidato in seguito al tracollo finanziario del marito va bene che bello a sua volta ucciso per accoltellamento ma vabbè mentre il loro figlio morirà in agguato nell'isola di Creta che belli guarda che belli proprio mi viene mi viene voglia di andare subito a vederle la tragedia più recente risale al 2002 quando il settimo dopo era affittato Cadario per una vacanza a Venezia il bassista John Etusil morì di infarto va bene mi sa che questa cosa non va bene tra i proprietari più famosi ricordiamo anche Christopher Kit Lambert manager del gruppo rock di The Two The Whom come cavolo si chiama io non li conosco che aveva confidato ad alcuni amici dormire nel chiostro dei gondolieri per sfuggire ai fantasmi che al palazzo lo perseguitavano il fantasma era malcontenta come me la splendida villa foscare di Venezia divenne la prigione di Elisabeth Dolphin Dolphin Velfino in realtà non si scriveva così però era tipo Dolphin va bene sei un delfino sei un delfino uomo sei un delfino donna recluso dalla famiglia a caso della sua condotta libertina fino al giorno della morte che bello che belle persone c'erano nel passato proprio bei genitori che uccide chi stupra chi ammazza chi fa morire di fame non lo so alcune testimonie giurano di aver visto lo spettro di una bellissima donna girarsi nella sontuosa residenza che bello guarda la fortezza infestata bello a me guarda lo sapevo già che erano tutti infestate queste cose il castello fiavesco della valle d'Aosta abitato da sinistre presenze sebbene il secondo piano del castello Fenis non sia accessibile ai turisti e si può sapere perché i visitatori raccontano di aver udito passi inquietanti rumori per venire dal soffitto la casa del violino oh mio dio la casa del violino non mi sembra c'è un violino infestato a sogno sottana in provincia di Raspez c'è una casa abbandonata vorrei anche capire perché abbandonata un tempo abitato da un giovane violinista ah ok pensavo che il violino era infestato si racconta che un giorno il ragazzo sparì nel nulla ed allora grisa straziato e insistente il suono di un violino provengono da una sinistra abitazione eccola la casa del violino a sogno sottana in provincia di Raspez è anche carina ma io non c'entrerei mai il mio serolo di Villa Clara ho trovato nei pressi di questo edificio Trebbo di Reno io non mi ci trovo a Trebbo di Reno mai in provincia di Bologna protesso di ripiando disperato di una bambina eh ma tutti i bambini piangono non è l'unica pare si tratta dello spettro di una piccola murata viva dal padre ma io veramente questi genitori non capisco che problemi hanno adesso tutti viziati prima tutti murati stuprati nei primi anni del novecento terrorizzato dei poteri di chiarovigenza della figlia si ma anche tu figlia potresti anche non dire ai tuoi genitori cosa ti sta succedendo oh la la abbiamo finito la strega di Villa Magnoni bella Magnoni mi piace ma non mi piace la strega quella villa dall'aspetto sinistro si trova nei prezzi di cono nella provincia di Ferrara la leggenda risale agli anni 80 quando un gruppo di ragazzi decide di avventurarsi tra le stanze abbandonate che ansia può darsi alla fuga e morire di un terribile incidente stradale che bello l'unico supessi ti raccontò che dal primo piano dell'edificio una vecchia fecciata alla fine una vecchia tipo ciao salvi amici benvenuti in questo nuovissimo video avevo cominciato a venire contro di loro spingendoli verso la rovinosa fuga eh mi sa che era un fantasma questa allora tutte le affermativi di sicurezza vennero murate tranne una indovinate quale ah quella della tizia ok abbiamo qua abbiamo finito praticamente queste sono diciamo tutte le case infestate d'Italia si dice non si sa chi siano veramente infestate e niente io non ne ho mai cioè non ne ho visto nessuno ma perché che ho voglia di andare a vedere cioè non è bello andare a vedere in una casa dove praticamente ci sono fantasmi che ti fanno che fanno i birichini e ti fanno fuori non è bello e niente spero che questo video vi sia piaciuto lo so che è un po' di tempo che non faccio più su queste cose qui però spero veramente che vi sia piaciuto quindi lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale lasciate un bel commentino sotto e mi raccomando restate sempre sindicati per nuovissimi video mi raccomando arriviamo a 700 iscritti e potrò raccontarvi la mia esperienza per quanto riguarda il paranormale è un'esperienza vera è veramente successo e non è una cazzata del tipo questa qua voglio avere iscritti voglio essere risoluzione ma è vera e spero che vi piaccia come idea perché è l'unica idea che mi viene in mente perché visto che è il paranormale è utile che vi racconti la mia l'esperienza e niente ci posso vedere oggi pomeriggio non so quando uscirà un nuovo video comunque ciao ciao